Buonasera a tutti, spettatori di Telerompo. Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati. Il gossip più succulento di fine autunno è servito. A quanto pare i due avevano diverse visioni sul futuro. Il pilota sarebbe stato pronto a sposarsi e a comprare casa sia a Milano che a New York, ma la bella Argentina non voleva saperne e così ognuno per la propria strada. Adesso Belen avrebbe voglia di dedicarsi solo al figlio Santiago avuto con Stefano De Martino che, secondo alcuni rumors, passerebbe molto tempo a casa della ex compagna. Buonasera a tutti, arrivederci alla prossima News. State bene e fate sempre del vostro peggio. A presto.